Sono a Firenze in via del Moro al numero 62 Rosso e tanti si saranno chiesti cosa sia questa apertura, cinta da ringhierina in ferro, posta sotto la finestra di un'abitazione. È una finestra per bambini e serviva dunque per farli affacciare in sicurezza. Infatti è chiusa da un'inferriata molto stretta, di dimensioni più piccola e collocata in una posizione più bassa, rispetto alle finestre per adulti. Ne esistono altre insurenze, in Borgo San Frediano al numero 7 Rosso, in Borgo La Croce al numero 8, in Via del Corno al numero 3. I bambini potevano così dare uno sguardo sulla città come grandi senza cabine.